Per gli alluvionati di Torri di Quartesolo e 7K non c'è pace. Da 6 dicembre scorso, dagli enti non hanno ancora ricevuto alcun tipo di risposte sulle cause, né tantomeno indennizi per quanto hanno subito. 150 famiglie si sono quindi costituite in un comitato e hanno chiamato Rete Veneta, dove la roggia caveggiara ha tracimato, per non dimenticare. Io abito vicino alla roggia, mi sono accorto che l'E3 era molto alta, ho preso la macchina, l'ho portata via in salvo, non c'era acqua, verso le 15. Alle 15.15 quando sono tornato a piedi avevo già 60 centimetri di acqua. Siamo stati sorpresi alle spalle, non abbiamo avuto nessun tipo di allertamento, per cui quando qualcuno si è trovato per strada e si è accorto che dell'acqua limacciosa la stava colmando, era troppo tardi. In un attimo la zona, che si credeva al sicuro dal Tesina, si è invece trovata sott'acqua, che ha sommerso persone e cose che si trovavano nei numerosi locali interrati. Auto, caldaie, elettrodomestici, lavatrici, pericolo per le persone, aziende completamente bloccate, i danni dei residenti e anche delle aziende, 2 milioni e mezzo di euro più un milione per le aziende. Coinvolta è anche tra l'altro una medicale che aveva necessità di essere sempre attiva e che in realtà non è potuta essere attiva. Dai primi dati che ho potuto visionare, pluviometrici, non risulta assolutamente un evento imprevisto né imprevedibile. I dati sono nella norma e sono quelli di frequente accadimento. Le cause del misfatto devono essere ascritte ad altro. Ci aspettavamo che una volta tanto, almeno localmente, lo Stato mostrasse il volto amico presso i cittadini e le aziende e invece siamo stati totalmente delusi perché c'è un rimpallo di responsabilità. Il soggetto principale che è il consorzio di bonifica che gestisce questa roggia ha al momento negato ogni responsabilità. I danneggiati ci sono e certamente i danneggiati non hanno nessuna responsabilità in quello che è successo. Abbiamo una decina di giorni fa deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica dove abbiamo raccolto i dati, abbiamo ipotizzato nell'esposto il reato di delitto colposo di danno.